Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di un argomento molto importante che mi viene spesso richiesto, che è l'interpretazione. Bene, che cos'è l'interpretazione quando parliamo di canto? Praticamente quando si scrive una canzone ognuno di noi dà una propria interpretazione di quello che sta scrivendo, quindi l'autore pensa al proprio messaggio da mandare, che però non è sempre chiaro, ma bisogna a volte leggerlo tra le righe. Quindi questo spetta a chi interpreta quella canzone di fare uscire il significato che per lui ha quella canzone stessa. Facciamo un esempio, io qua ho un testo, ho scelto una canzone molto bella di Cremonini per fare alcuni esempi, che è La nuova stella di Broadway, che conosciamo bene tutti. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino alla finestra, lui beveva caffè. Allora, capiamo un attimo come interpretare questa canzone, ma facciamo solo un esempio su questa, ovviamente tutto poi possiamo applicarlo alle altre canzoni, in base a quello che ci trasmettono. Nella prima parte, e solitamente nella strofa, le canzoni sono discorsive, cioè raccontano delle cose, mentre poi il ritornello solitamente dà spazio a quelli che sono i nostri sentimenti e quindi diventano più aperti. Vediamo questo caso qua, quindi lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino alla finestra e lui beveva caffè. Quindi questa è un po' una descrizione. Quando noi andiamo a cantare, non possiamo già dalla strofa cominciare Come se stessimo cantando un ritornello, perché spesso questo è un errore che io vedo fare. Più che errore, dico errore per dire che secondo me, in questo caso, nella strofa bisogna essere molto più descrittivi. Quindi, lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Cioè proprio raccontando quella che è la scena, senza troppo pathos, perché qui non serve. Quando dice penso è una stella, ovviamente io entro un attimo nel pensiero di una persona che guarda una ballare, Bravissima ballerina, la guarda a muoversi e quindi Penso è una stella Questo si può enfatizzare Anziché, guardando quelle gambe a muoversi, penso è una stella Ritornando, cioè rimanendo nella descrizione Ma qui si può dare una sfumatura Guardando quelle gambe a muoversi, penso è una stella Qua si distende di più, perché già c'è un sentimento E chi non ha mai visto nascere è una dea Ok, non lo sa che cos'è la felicità Detto questo, fino a quando poi lui garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet Lei è vestita come la Roger, fulmini e salette lassù nel cielo blu il loro nome Argento tra le stelle E qua si apre New York, New York È una scommessa d'amore Tu chiamami e ti vestirò Come una stella di Brodue New York, New York Quindi qua noi poi possiamo cantarla Aprendo, distendendoci, allungando le vocali E poi si riprende Lui si svegliò senza lei Ludo nella tempesta Fuori Union Square Entrava luce al nero nel vetro di una finestra L'odore del caffè Quindi ritorniamo a essere descrittivi Questo è un modo per interpretare la canzone Poi ovviamente ognuno di noi Nelle varie canzoni che cantiamo Può rendere queste canzoni più tristi Più felici Più aggressive Più cattive Più con rabbia Oppure con malinconia Tutti i sentimenti che ci appartengono Quindi se io immagino questa canzone Facciamo sempre l'esempio qui Anche perché noi poi possiamo fare un gioco Cercando di fare la stessa canzone Con metodi diversi Cioè in modi diversi Proviamo a pensare una voce Ad esempio che sia arrabbiata Come se questa canzone L'avesse scritta l'autore Pensando al sentimento dell'arrabbia Tipo Lui era un businessman Con un'idea in testa Lei ballerina di jazz Leggeva William Blake Vicino a una finestra Lui beveva caffè Con questa interpretazione rabbiosa Magari facciamo una versione rock E lo facciamo così Oppure si può fare più nostalgica Malinconica Lui era un businessman Con un'idea in testa Lei ballerina di jazz Portando la voce a essere un po' più morbida Più indietro Anziché qui in avanti Lui era un businessman Questa è più fredda Lui era un businessman Non so se si capisce bene la differenza Però portando il suono a essere più profondo Anche un po' più arioso Diamo più morbidezza Quindi in base a quello che voi volete comunicare Cercate anche di giocare su questo Ma facciamo allegra Lui era un businessman Con un'idea in testa Lei ballerina di jazz Leggeva William Blake Vicino a una finestra Lui beveva caffè In questo modo vediamo che la canzone diventa più allegra E acquisisce un tono più leggero Più scherzoso Quindi quando noi poi andiamo a studiare una canzone La prima cosa da fare è leggere il testo Capire bene di che cosa parla la canzone Perché è fondamentale questo Altrimenti non possiamo interpretare nulla E ricordiamoci che la strofa solitamente è più raccontata Racconta più delle scene E quindi non soffermiamoci troppo a cantarle A declamarle Come invece possiamo fare solitamente nel ritornello Poi ci sono le eccezioni Però solitamente è così E poi sperimentiamo la nostra voce Con i vari sentimenti con cui possiamo cantare le canzoni Magari se una canzone è Questo è il ballo del qua qua Non possiamo fare una canzone Questo è il ballo del qua qua Con una voce troppo Troppo profonda È chiaro Io sto dicendo delle cose ovvie Però proviamo a sperimentare Nelle varie canzoni I vari modi di cantare La facciamo allegra Poi la facciamo triste E vedrete che escono proprio dalla vostra voce Dei colori Che magari neanche pensavate di avere Ma che ci sono E quindi questo ci aiuta anche a conoscere meglio La nostra località In un certo senso E la nostra espressività Ok? Quindi questo era solo qualche consiglio Se avete altre domande oppure curiosità Scrivetelo nei commenti E io vi risponderò il prima possibile Ciao ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima